Via libera dalla Commissione europea agli aiuti di Stato italiani per sostenere la produzione di oltre 4500 megawatt di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili. Il regime di aiuti contribuisce al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Unione europea relativi al Green Deal, aiutando nello stesso tempo a porre fine alla dipendenza dai combustibili fossili russi e ad accelerare la transizione verde. La misura, che rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2028, sarà finanziata mediante un prelievo dalle bollette elettriche dei consumatori finali e sosterrà la costruzione di nuove centrali che utilizzano tecnologie innovative e non ancora mature, come l'energia geotermica, quella eolica offshore e solare termodinamica. Nel regime di aiuti sono inclusi anche progetti che sfruttano le maree, il moto ondoso e le altre energie marine, oltre al biogas e alla biomassa. In base alla tecnologia, il termine per l'entrata in funzione delle centrali varia da 31 a 60 mesi. Secondo la Commissione, la misura è necessaria e adeguata affinché l'Italia raggiunga gli obiettivi climatici europei e nazionali. Inoltre è proporzionata perché l'aiuto si limita al minimo necessario per stimolare gli investimenti. Grazie.